Sì, la mia guardia vi ha viste uscire. Non volevo correre rischi. Senti, io capisco il motivo, ma la prossima volta che non approverete una mia decisione, per favore venite a parlarne con me. Non so se sto facendo la cosa giusta, ma so che non voglio che muoia altra gente e intendo anche voi. Cosa? Oh, mio Dio. Oh, mio Dio! Magno, via, vambini! Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Oh, mio Dio. Io sono Alfa e vogliamo soltanto una cosa da voi. Mia figlia!